Allora, grazie a tutti per essere qui anche da parte mia e un'altra sessione a tema natalizio Dicevo, un'altra sessione a tema natalizio, continuiamo un po' quello che ci ha raccontato Lorenzo su cosa possiamo fare, come ci può aiutare l'intelligenza artificiale, le AI generativa In questo caso associato alla generazione di immagini, in particolare quando ho proposto questa sessione ho cercato di capire come ci può aiutare Può aiutare noi che siamo sotto le feste ma siamo anche degli sviluppatori per essere originali, per produrre qualcosa di carino per i nostri amici, per i nostri parenti Io ho pensato, le AI generativa genera testo ma anche immagini, proviamo a capire se e come possiamo utilizzarla per generare le cartoline di Natale Quindi l'argomento in realtà è molto semplice, come vedremo non è neanche molto difficile realizzare quello che ho messo insieme per voi Però è un esempio carino che fa vedere come i diversi servizi che vengono forniti possono essere integrati per ottenere qualcosa di originale Naturalmente ringraziamo gli sponsor, un ringraziamento anche da parte mia E partiamo subito Partiamo dall'assunto zero, come diceva un mio professore dell'università, dal punto di vista del programmatore L'assunto zero è il programmatore pigro Noi per Natale siamo tutti più buoni però continuiamo ad essere pigri Abbiamo il problema di dover mandare le cartoline di Natale ai nostri amici e ai nostri parenti Ormai di solito lo facciamo via Whatsapp, via Telegram eccetera Non usiamo più cartoline normali però i tipici messaggi tutti noi li vediamo nei gruppi in cui siamo Messaggi con auguri di Buon Natale, cartoline varie ed eventuali Per evitare di mandare sempre le stesse noi vorremmo essere magari più originali Vorremmo cercare di mandare qualcosa anche per distinguerci, magari per farci dire dai nostri amici Oh che carina questa immagine, dove l'hai presa? E quindi avere un Microfono, si funziona Avere un sistema che ci aiuta a mandare cartoline virtuali sempre nuove, sempre originali Il problema che noi abbiamo è dove sceglierle, quali? Ci sono problemi di copyright, se andiamo su qualche sito possiamo utilizzarlo o no Oppure rischiamo di riciclare quelle vecchie eccetera Ci può venire in aiuto in uno scenario del genere l'intelligenza artificiale? La risposta ovviamente è sì, altrimenti non saremo qui a parlarne E con l'intelligenza artificiale, come dicevo prima, semplicemente noi possiamo farci generare le cartoline Le cartoline di Natale, sulla base di una serie di informazioni che noi gli forniremo Queste informazioni in realtà possiamo utilizzarle direttamente andando a sfruttare Bing Image Creator, Midjourney, Leonardo, come ci diceva prima Lorenzo Dei sistemi che conosciamo tutti, diamo una descrizione e otteniamo una cartolina Ricordiamo però un'immagine Ricordiamo però che noi dobbiamo fornire una descrizione Noi siamo pigri, ricordiamo il nostro assioma zero Quindi dobbiamo pensare, prima dobbiamo cercare una cartolina di Natale Adesso invece possiamo usare un sistema che la genera per noi Però dobbiamo preoccuparci di fornire questa descrizione Perché se scriviamo un albero di Natale sotto la neve Alla fine tutti avranno la stessa Cambierà qualcosa nei sistemi di generazione Però alla fine non sarà molto diverso il soggetto Quindi non siamo originali, che è il nostro obiettivo Che cosa possiamo fare? Invece di pensare alla descrizione della cartolina Come dicevo, possiamo fare un passaggio in più Abbiamo un sistema che ci genera la cartolina Abbiamo un sistema che genera del testo Mettiamoli insieme Chiediamo a ChatGPT o chi per lui Di generare la descrizione Che poi diamo in pasto al sistema Da lì nel nostro caso come vedremo Per generare la cartolina In questo modo sono due servizi diversi Che mettiamo insieme per ottenere una cosa del genere Quindi ci prendiamo una descrizione Che come vedremo banalmente può essere una descrizione casuale Che gli chiediamo Dandogli una serie di indicazioni Come vedremo A fronte di questa generiamo un'immagine Come dicevo, l'argomento è molto semplice Però secondo me è carino Perché fa vedere come mettere insieme questi pezzi Per fare questo Noi, come detto, siamo pigri Ma siamo sviluppatori Abbiamo già tutto quello che ci serve tramite OpenAI OpenAI o Azure OpenAI I servizi naturalmente sono Praticamente gli stessi da questo punto di vista Abbiamo le ChatCompletion API Che sono ChatGPT per intenderci Che ci permette di generare del testo Nel nostro caso gli chiederemo Dacci una descrizione di un'immagine Nello specifico di una cartolina Dopodiché abbiamo da lì per creare l'immagine Se l'avete provato Avete provato Bing Image Creator Avete visto quello che avete utilizzato Magari senza saperlo E da lì la versione 3 Che permette di ottenere immagini Con una qualità molto alta E anche molto interessante E noi proveremo a sfruttare quello oggi Se avete usato l'API in passato Fino a poco tempo fa Su Azure in particolare Era disponibile la versione 2 E se l'avete utilizzato con quella versione E avete ottenuto immagini Qualità non propriamente eccezza Che magari vi hanno scoraggiato Dal continuare ad usarlo Fate le prove con la versione 3 Che è disponibile ormai da circa un mesetto Su Azure Perché la qualità migliora molto E quindi invoglia anche ad utilizzarlo Anche nelle nostre applicazioni La prima cosa che dobbiamo decidere Entriamo subito un pochino più nel tecnico Ok noi vogliamo utilizzare l'OpenAI Come abbiamo raccontato Dobbiamo usare le chat competition API Dobbiamo utilizzare da lì Come lo possiamo fare? Oggi ed è la prima difficoltà Nel momento in cui lavoriamo con queste cose Abbiamo a disposizione almeno 3 soluzioni E dobbiamo capire quale adottare Abbiamo il semantic kernel Che è una delle cose che ultimamente Viene mostrata più spesso In sessioni di presentazione sull'OpenAI Per chi magari tutti voi non conoscete semantic kernel Ma se avete lavorato in questo caso Riconoscete Langchain Semantic kernel è la risposta di Microsoft A Langchain Quindi un orchestratore Per gestire sistemi di questo tipo Oppure abbiamo l'SDK di Azure OpenAI Specifico per l'utilizzo dell'API Sulla piattaforma Microsoft Oppure le classiche API REST Perché di fatto sono chiamate HTTP Quelle che andiamo a fare Nel nostro caso Io ho pensato che cosa utilizzare Per mostrarvi Questa soluzione Alla fine ho deciso di usare L'SDK di OpenAI Perché molto spesso In questi casi viene mostrato E viene quasi sempre utilizzato Il semantic kernel A fronte anche di una certa Creazione di questo orchestratore Che dicevo Nel nostro caso È molto semplice Quello che dobbiamo fare Scomodare un semantic kernel Per fare due chiamate Come vedremo È veramente troppo E questo è un primo punto importante Che volevo Un messaggio che volevo passarvi Non necessariamente Noi dobbiamo andare Sulla soluzione Che vediamo usata Più spesso Più consigliato Che tutti dicono Dovete fare così Perché tutto il mondo fa così Abbiamo diverse alternative Scegliamo quella Che è più giusta per noi In molti casi Come quello che vedremo Lavorare tra molte virgolette Più a basso livello Con l'SDK Di OpenAI Può essere la scelta giusta Perché non ci richiede Di apprendere tutto Una wow Per adottare il semantic kernel Se qualcuno di voi L'ha utilizzato Sa di cosa sto parlando Anche per fare cose semplici Può essere necessario Scrivere anche parecchio codice Nel nostro caso Vedremo che saranno Veramente due righe Per quello dicevo Che la sessione Di fatto il contenuto Sarà molto semplice Ma è interessante Secondo me Da questo punto di vista Perché vi fa capire che Molto spesso Farci le cose a manina Invece che farci aiutare Da questi strumenti Da una parte Ci dà flessibilità massima Dall'altra ci dà La possibilità di Gestire meglio I nostri flussi Piccola parentesi Sarebbe comunque Stato difficile Usare il semantic kernel Per questa demo Perché nel giro di una settimana Hanno rilasciato Quattro release candidate Della libreria Ognuna delle quali Ha rotto Quello che c'era Nella precedente Quindi l'ultima uscita ieri Circa 24 ore fa ormai La quattro Che ha cambiato di nuovo tutto Quindi era difficile Anche lavorarci Per preparare qualcosa Di funzionante Invece L'SDK di OpenAI È ancora in beta Però è abbastanza Stabile da questo punto di vista Quindi noi ci concentreremo Sulla seconda soluzione Poi di fatto Il semantic kernel Dietro le quinte Usa OpenAI L'SDK di Azure OpenAI Se usiamo appunto La parte OpenAI Quindi i concetti Si ritrovano in ogni caso Però Lavorare a basso livello Cioè Al solito Tra virgolette A basso livello Su questo Secondo me È una buona soluzione Una considerazione Prima di Finalmente Andare nel codice È il discorso Della disponibilità Dei modelli Perché Su Azure A differenza di quello Che succede Su OpenAI Su Azure OpenAI Noi abbiamo I diversi modelli Sia per la parte Di competition Sia per la parte Di da lì Che però Non sono disponibili Su tutte le region Quindi a seconda Di quello Che vogliamo utilizzare Dobbiamo creare Delle risorse Classica risorsa Su Azure Create resource Come siamo abituati Dall'app service In poi L'abbiamo sempre fatto Dobbiamo decidere La region In cui creare La nostra risorsa Che è la risorsa Proprio chiamata OpenAI Perché a seconda Della region Noi avremo dei modelli Che possiamo utilizzare La cosa curiosa Ad esempio Partiamo dal fondo Dall'I3 È disponibile soltanto In Sweden Central Perché proprio lì Non ve lo so dire È curioso Che non hanno dato Non l'hanno Deployata Nelle classiche East US West US In Sweden Central È disponibile lì Così come se guardate Il GPT L'ultimo GPT4 Il preview Che è il GPT4 Turbo È disponibile Soltanto in alcune region In particolare Anche nella Sweden Central Quindi nella mia demo Io ho creato una risorsa In Sweden Central Per utilizzare entrambi i servizi Come vedremo Non è velocissimo Ultimamente Quindi ci vorrà un po' di tempo Per ottenere il risultato Però funziona La speranza è che Andando avanti Sia disponibile su più region Diminuisca il carico di lavoro I servizi diventano anche più responsivi Perché purtroppo al momento C'è un po' da aspettare Per vedere che cosa succede Detto questo Va bene fare qualche slide Però non esageriamo Demo Guardiamo il codice Vediamo in Visual Studio Come si fanno queste cose Ne approfitto anche Per farvi vedere Anche qualche Diciamo Approccio Diverso dal solito Per l'utilizzo Ma che secondo me È molto sensato Dal punto di vista Dell'integrazione Cosa che normalmente Non ci viene mostrata Ma secondo me Ha senso Impiegare in questo tipo Di soluzione Nell'applicazione Questa applicazione Che vi faccio vedere Io ho già Aggiunto la libreria Che è Microsoft Andiamo Anzi Vediamo se lo zoomo Anche un pochino Andiamo Andiamo a chiudere questo Comunque si dovrebbe già vedere Ho già aggiunto la libreria Microsoft AI Open AI Che come detto È in beta Da qualche giorno È arrivata la beta 11 È quella che ci permette Di usare L'SDK In realtà Vi faccio vedere Un approccio Che appunto Non viene di solito Mostrato L'utilizzo di questa Questa libreria Utilizzata insieme A Microsoft Extension Sajur Che è un'altra libreria Appunto di Microsoft Questo perché Perché ve lo faccio vedere Perché normalmente Noi Se l'avete vista Questa libreria L'avete utilizzata È un classico oggetto Che istanzio con la new Imposto Tipicamente le demo Sono Nel momento in cui Siamo in un'applicazione web O comunque vogliamo utilizzare Sistemi di dependency injection Di Microsoft Non abbiamo un supporto nativo Da questa libreria Questa cosa Come dicevo Non è documentatissima In realtà Utilizzando queste due librerie Insieme Se noi andiamo nel program CS Questa è una classica applicazione Web Con Una piccola Una piccola novità Che adesso Rispetto ai miei standard Che adesso vi racconto E io qui Che cosa faccio Per andare ad utilizzare Questo servizio Builder Punto Services O Add Azure Clients Questo metodo Mi viene fornito Dalla seconda libreria Che abbiamo visto Grazie a questa Io posso fare una cosa del genere Posso aggiungere Tramite Una sezione options Una action options Che con un parametro Che chiamo così Vediamo se ho scritto giusto Sì Aspettate che inclino Un pochino di più Il monitor Ok Io qui dentro Posso fare un Options Qui Copilot Come detto prima Che non ci sostituirà Perché non ci ha azzeccato Stavolta Quindi Annulliamo Quello che ha scritto Qui dentro Gli do Un Mi ha Cancellato questa parentesi Copilot Fai il bravo Allora Infatti E qui possiamo fare Un options Punto add OpenAI client E gli devo dare Due parametri Che sono L'endpoint Da utilizzare E le credenziali In questo caso Il primo parametro È l'endpoint Che io È un oggetto Che mi ero già salvato prima OpenAI settings Punto Endpoint E poi le credenziali Che sono Forse questo Un new In questo caso Ce l'ho OpenAI settings Punto Credentials Ma è molto semplice Questo dovrebbe essere Probabilmente Questo è un new Devo fare la new Di questo Perché vuole un URI In realtà Dovrebbe essere così Ok L'endpoint È la classica risorsa Che ci viene fornita Da Azure Ci dice qual è l'URL Per invocare la risorsa Per intenderci Se andiamo Lo vediamo ad esempio Nel playground Chat E qui dentro Vediamo Qui Molto comodo Questo tastino qui View code L'endpoint Lo vediamo qui sotto È il nome della risorsa Creando la risorsa Su Azure Ci viene dato Ci viene dato Sia questo endpoint Che la chiave Per l'utilizzo Le utilizziamo Le passiamo Al nostro API client Per il funzionamento Grazie a questo Noi abbiamo Di fatto La possibilità Di utilizzare Questo open AI client Independence injection Quindi possiamo sfruttarlo Nel classico modo Che siamo abituati In .net Come dicevo Questo non viene mostrato Molto spesso Ma secondo me È l'utilizzo Che ha senso fare oggi Questa applicazione Come dicevo È una piccola novità Perché di fatto Il cuore di questa demo È il miracolo del Natale Ho fatto una demo Con una UI E senza swagger Che per chi mi conosce Sa che è una cosa incredibile Quindi vedremo anche Un pezzettino Di interfaccia grafica Che ho realizzato Per mettere in piedi Tutto questo sistema Questa applicazione Fatta con le razor page Richiama Dietro le quinte Però una web API Quello Devo evitare Di farlo Grazie al sistema Di dependency injection Io qui posso Posso Nel post guard service Passo nel costruttore Il client Senza dover inizializzare E gestire Il classico approccio Della dependency injection Tra l'altro qui Per chi ha già visto C sharp 12 Dotnet 8 S'usando il primary constructor Per passare Questi argomenti Ora Come vi dicevo Tutto è molto semplice In realtà Il sistema Tutto si tratta Di gestire questo metodo Generata sync Io voglio generare La descrizione A fronte di quella Ottenere la cartolina Quindi la mia immagine Cosa faccio? Semplicemente Qui gli dico Var E chiamiamolo Description Description Response Faccio la wait Di questo open AI client E qui ho diversi metodi Uno di questi è Get chat completitions Async Che ha bisogno Di un oggetto Con una serie di parametri Che adesso definisco qui Che sono Andiamo Vediamo Cerco di Farlo a pezzettini Perché Copilot Non lo impazzisca In questo caso Ad esempio Il deployment name Che è OpenAI settings Punto Io l'ho chiamato model È il modello Che ho deployato Se andiamo sul nostro pannello Di Azure Nella sezione De deployment Se il mouse Torna a funzionare Cosa che non è così scontata Ok Andiamo di Trackpad Qui ci sono i modelli Di cui ho fatto il deploy Niente di nuovo Questo l'avete visto sicuramente Mille volte in altre sessioni Ho deployato questo GPT4 Tra l'altro Sto usando la versione turbo Per fare le prove Ho lavorato con questa Questa costante Che Questo settings Che vi ho fatto vedere Punta esattamente A questo oggetto Dopodiché Io Come sapete Il funzionamento Di Cagpt È passare i messaggi Quindi dargli un prompt Per ottenere la mia risposta In questo caso L'ho già preparato Perché Ho dovuto Ho fatto un po' di test Per verificare Che funzionasse Come mi aspettavo Vediamo Dove sta Nella parte Web Non qui Mi ha impazzito Me l'ha messa qua sotto Io qui sotto Gli dico Questo Nei messaggi Gli dico Sei un assistente Che genera descrizione Di cartoline Da inviare Ad amici e parenti E poi questo È il messaggio Che mi sono inventato Non ho sperimentato Più di tanto Però già con questo Ho ottenuto dei buoni risultati Qui Proprio Lo addestriamo Gli diciamo esattamente Quello che deve fare Crea una descrizione casuale Per una cartolina Descrivi i dettagli Descrivi i colori Che utilizzi Non dire che si tratta Di una cartolina Perché spesso ho notato Che mi dice Questa è una cartolina Che raffigureto Non dirlo Non inserire Alcune scritte Anche se sarebbe in grado Comunque poi Di renderizzare Nell'immagine Gli ho detto Di non farlo E poi non usare Più di mille caratteri Non andare a capo Per averla scritta In un certo modo E con un certo limite Ok Quindi molto semplice Io gli vado a dire Quelle che sono le caratteristiche Della mia descrizione Poi gli posso impostare Dei parametri Che possono essere Ad esempio Qui sotto Gli posso dare La temperature E gli diamo uno In modo che sia Il più fantasioso possibile Temperature Un parametro Da zero Da zero a due In realtà Dice la documentazione Anche se mettendo due Si blocca Nelle prove che ho fatto Almeno col GPT turbo Provato con uno Invece funziona E quanto deve essere Fantasiosa e creativa Nella risposta Le cartoline Voglio che siano Il più possibile Diverse Quindi gli do uno Ora A questo punto Per ottenere La descrizione Non ci preoccupiamo Della gestione Degli errori Che dovremmo fare Naturalmente Description Qui non ci ha preso Per niente In questo caso DescriptionResponse PuntoVeglio PuntoChoices Mi interessa la prima E qui ho message E poi ho il content Questa è la descrizione Che mi è stata generata Quindi il primo step L'ho fatto Come vi dicevo Io non ho messo in piedi Un semantic kernel Per fare tutto questo Perché con una chiamata Ho ottenuto Già il risultato Che mi interessava Quindi con questa chiamata Me la sono cavata Non mi devo preoccupare In questo caso Di salvare lo storico Dei messaggi Perché di fatto Ogni richiesta È indipendente dall'altra Io gli do un system message Per dirgli Se è un assistente Potevo non mandaglielo Neanche in questo caso Ma lo indirizzo Comunque dicendo Che tipo di assistente è Gli dico Che cosa deve creare E non mi interessa A mantenere lo storico Delle descrizioni fatte Per fare la chat Vera e propria In questo caso Sto utilizzando Le chat competition Ma per avere Una risposta Diciamo indipendente Dalle altre Dopodiché cosa faccio Una volta che ho la descrizione Devo andare a creare L'immagine Per fare l'immagine Concedetemi questo Di prenderlo Con un piccolo Pezzo di codice Che avevo preparato Perché qui Ci sono un po' Un paio di parametri Un po' più noiosi Da mettere dentro Anzi in realtà Uno solo Però lo vediamo qua Faccio un altro metodo Che è la Get image generation async Gli do il nome del modello Che nel mio caso È dall'I3 Poi gli do il prompt Che è esattamente La descrizione che ho ottenuto Non faccio altro Che passarla a lui E poi gli dico La dimensione Che ho messo in un file Di settings Per averla Accessibile In maniera più comoda Dopodiché cosa faccio Esattamente come ho fatto sopra Var Image url Non sarà altro Che l'image generation response Stavolta ci ha quasi preso Però è value Però in questo caso È data T0 Punto Emei Punto Url Ce l'ho disponibile qui Quindi ho questi due parametri Che mi vengono Restituiti Il valore che restituisco Sarà Questo oggetto Image url E poi sarà la mia description Perché voglio mostrarle entrambe Ora l'applicazione Come dicevo Il Qui si sta arrabbiando Perché gli devo dare Un to string Perché questo è un uri Sì Di là gliel'ho passato come string Ok Come dicevo Questo è il miracolo di Natale Un'applicazione web Fatta con razor page Che utilizza Dietro le quinte alpine.js Un framework javascript Per fare una chiamata Non ho scomodato blazor Non ho scomodato angular O altro Perché va bene Il miracolo di Natale Però Non arriviamo Alla fantascienza Ancora non ci arrivo È già tanto Che io abbia fatto Un'interfaccia di questo tipo Quindi Non fa altro Che l'applicazione All'avvio Chiama questo endpoint Che genera una descrizione Che a sua volta Genera l'immagine E gliela passa Per la visualizzazione Quindi come dicevo Molto semplice Come avete visto Di fatto sono Tendenzialmente Essenzialmente Due righe di codice Se noi proviamo A mettere un punto Di interruzione qui E avviamo l'applicazione Possiamo vedere Che cosa ne viene fuori Qua adesso L'interfaccia Che ho messo in Come detto I tempi di esecuzione Sono un pochino rallentati Perché in questi giorni Non sta andando Veloce Quindi nel frattempo Vi racconto Una barzelletta Vediamo come passare il tempo Se avete domande Nel frattempo Approfittiamone Perché adesso vedrete Che ci metterà un po' Facciamo intanto apparire L'interfaccia Così poi vediamo Sperabilmente passo passo Che cosa succede Ok Eccolo qua Viene chiamata Quest'API E che cosa facciamo Nel nostro codice Facciamo un bel F10 Creiamo questa Description response Al di là Delle errori di ortografia Che ho notato adesso Qui se vediamo Sta facendo la chiamata Alla nostra endpoint L'SDK Ha fatto questo in vocazione Come detto Ora ci impiega un po' E questi sono tempi tecnici Su cui non ci possiamo fare niente Provando con altri Con altri modelli Era più veloce Però io ormai Ho voluto fare i test Con la versione turbo Usando Sweden Central Per non dover creare Due clienti diversi Quindi Ora Speriamo che non ci impieghi Veramente otto ore Come negli ultimi casi No Stavolta invece Se l'è cavata anche abbastanza bene Che cosa fa adesso Sulla description Se andiamo a fare un F10 Ci vediamo Qui dentro Facciamo un control Più Qui dentro View Text Visualizer Vediamo che cosa ci dà E questa è la descrizione Che ha tirato fuori E' chiaro che noi Non la scriveremo mai Così Così dettagliata L'immagine raffigura Una scena invernale di liaca Fiocchi di neve candida Accadono delicatamente Su un pittoresco villaggio Non lo faremo mai così Quindi va bene essere originali Ma non ci arriveremo mai Ce lo fa L'intelligenza artificiale per noi E quindi abbiamo risolto Il problema Di crearci la descrizione Se a questo punto Noi andiamo avanti Facciamo un Dove sta Un F10 Viene invocato L'altro servizio Che è quello che fa L'image generation Adesso A fronte di quella descrizione In realtà Io l'ho limitato A mille caratteri Con dall'E3 Gli si possono dare Un input fino a 4000 caratteri Ovviamente Va bene Dargli dei dettagli Però Se si esagera troppo Non possiamo pretendere Ovviamente Risultati Troppo Troppo complessi Però già così Se la cava abbastanza Funziona bene Se facciamo un F10 Vediamo che quello che ci viene restituito Control più Questo URL qui Non è altro che un URL Di un file su uno storage di Azure La libreria È una libreria di Azure Che cosa fa Crea un file Di default Se non ricordo male Scade Questo file Viene cancellato automaticamente Dopo 24 ore È un URL Con un SAS Per poter accedere Quindi è un URL Anzi Vediamolo Velocemente Qui sopra È un URL Del file Con Un GUID Generated Ad Xcode 00 E poi Il classico SAS Se avete usato uno storage E avete creato una SAS Che vi ritrovate assolutamente In questo Almeno è un URL Con una chiave Quindi non è pubblico Al 100% Dopodiché Noi lo restituiamo E abbiamo finito Perché se adesso Avviamo la nostra applicazione E torniamo qui Quello che otteniamo È questo Ecco che Abbiamo l'applicazione Che ha generato La nostra cartolina Virtuale Con la sua bella descrizione E quindi Qui siamo stati Veramente originali Siamo stati in grado Di aggiungere Di ottenere Questo risultato Con veramente poco sforzo Come avevo anticipato Per una volta Non abbiamo visto Veramente tanto codice Poi qui Ho esagerato Addirittura Faccio lo zoom Dell'immagine Per chi mi conosce Sa che è un lavoro Incredibile Ora questo sistema Ogni volta che noi Togliamo pure Il punto di interruzione Così nel frattempo Vi racconto L'ultima cosa Che volevo mostrarvi Anzi non so ancora Quanto tempo abbiamo Forse abbiamo ancora Un pochino di tempo Ho iniziato Agli 8 Dovrei avere ancora Qualche minuto Se adesso noi Proviamo qui Ovviamente adesso Clicchiamo qui Impiegherà di nuovo Tempo E andrà a generare Un'altra immagine Quindi otterremo Un'altra Anzi prima una descrizione E a fronte di quella Poi un'altra immagine Quindi il giro Sarà tutto lì Quindi molto semplice In questo caso Io gli ho ristretto Lo scenario Dicendogli Che era una cattolina Di Natale Ma volendo Potrebbe essere Qualunque tipo di immagine Potremmo dirgli Un paesaggio qualsiasi Restituiscimi Una descrizione Appunto per un paesaggio Piuttosto che per un dipinto Come me lo Come lo Quello che vogliamo Possiamo addirittura Usare uno stile In questo caso Il default è quello Chiamato vivid Possiamo avere lo stile natural Per avere immagini Più fotorealistiche Con Dall'I3 Abbiamo tutte queste possibilità Nel momento In questo caso Un sistema di questo tipo Possiamo essere veramente Immagini Sicuramente originali Quindi come dicevo Un sistema Diverso dal solito Per quanto riguarda L'intelligenza artificiale Generativa Messa insieme Alla generazione di immagini Non è niente di difficile Appunto sono riuscito A fare una UI Anch'io Su questo quindi Penso che sia chiaro Che è la portata di tutti Qui ha creato La descrizione Adesso a un certo punto Ora sta facendo La generazione dell'immagine Vediamo se Tra un istante Arriva E poi vi faccio vedere L'ultima cosa Dovrei avere ancora Qualche minuto Vediamo se Se ce la fa Qui è Sweden Central E purtroppo Per da lì Non abbiamo alternative Vediamo se Aspettando qualche istante Fa il suo dovere Prima se l'è cavata Abbastanza bene Adesso Eccolo E' arrivato E qui abbiamo Un'altra immagine Cioè Ha sempre raffigurato Un albero Però comunque Lo stile È diverso Il soggetto È evidentemente È diverso Quindi volendo Potremmo aggiungerci Anche una scritta Personalizzarle Come ci pare Quindi Possiamo mettere insieme Questi due servizi Carino Da lì Fateci delle prove Perché si ottengono risultati Molto molto carini L'ultima cosa Che vi faccio vedere Ora che questo Non è collegato Strettamente alle cartoline Però è legato Al fatto che per Natale Sì che siamo tutti più buoni Però questi servizi Si pagano Quindi noi Magari Lo vogliamo anche Addirittura Tra l'altro Vi darò anche il link Se volete così giocarci Provare a generare Qualche immagine Potete farlo Di questo sito Questi servizi Ovviamente si pagano ChatGPT Lo pago Piuttosto che da lì Lo pago in base A quante immagini Vado a generare Questa è un'applicazione pubblica Che noi possiamo ovviamente dare Come vi darò il link Tra un istante Ovviamente Io vado a pagare Per le immagini Che mi vengono richieste In applicazioni di questo tipo Qual è uno scenario tipico Che noi adottiamo Quando siamo in un'applicazione Così Una soluzione Che possiamo usare Non necessariamente l'unica Io di solito Faccio questo Fatemelo fare Con un piccolo snippet Di codice Questo secondo me È importante In qualunque applicazione Ha delle API Per accedere Ai sistemi di intelligenza Artificiali di questo tipo Che si pagano A consumo E ovviamente vogliamo dare Un accesso pubblico Però lo vogliamo in qualche modo Limitare In questo caso Vado a prendere Questo pezzettino Di codice Che cosa faccio qui? Che cos'è questo Questo oggetto? È quello che Ce l'aviamo già a disposizione Da .NET 7 È il rate limiter Quindi un oggetto Che mi limita Il numero di chiamate Che vengono effettuate Il mio API Questo è soltanto un esempio Ma ce ne sono diversi Che si possono utilizzare Io qui ho creato Un token bucket Quindi quello a salvadanaio Dove ho 500 token Ogni ora Vengono aggiunti 50 Fino ovviamente Se sono sotto i 500 Ogni ora Ne aggiunge fino a 50 Per tornare Al valore massimo In modo che Non possano essere fatte Più di Io qui ho messo 500 Giusto per fare una prova Ma potete decidere Cosa usare Potete usare Un fixed window Rate limiter Per dire Posso fare 10 chiamate Al minuto E così via In questo modo Limitate Quante chiamate Possono essere fatte Poi avete visto Che ora Per la velocità Che ha È già tanto Se se ne fanno Due al minuto Quindi difficilmente Si arriverà A questi limiti Però In generale Bene prevedere I sistemi del genere Quando lavoriamo con In generale Con delle API Secondo me È buona norma Prevederlo Ma poi con servizi Di questo tipo Dove Potenzialmente Se chiediamo Tanti token Con la versione GPT4 turbo Arriviamo a 128.000 token Possiamo mandare Tanta roba Tutta insieme Che ovviamente Costa Capite bene Che dare un limite In quel caso Magari lo limitiamo Anche sulla Grandezza dei token Se vogliamo avere Un controllo A monte Mettiamo Rate limiter Sicuramente ci aiuta Questo come detto È soltanto un esempio Quando lo aggiungiamo Dobbiamo ricordarci Dopo che lo abbiamo aggiunto Di utilizzare Il middleware relativo Con app Use rate limiter La posizione importante Va messo dopo Use routing Perché funzioni Nel modo giusto Dal punto di vista Dell'applicazione Ora Avviamola velocemente Non succederà Se io facessi Più di 500 chiamate Mi inizia A rispondere 429 Sarà impossibile Farle Perché Vista la lentezza Non arriverò mai Ad esaurirle tutte Nell'arco di un'ora Quindi Il toil bucket Era sempre Rimpinguato Però Concettualmente È una protezione Semplice da usare Perché sono veramente Due righe di codice Che protegge Le nostre API Questo vale Come dicevo In generale Per tutte le API Che sviluppiamo Per questi sistemi Secondo me È particolarmente importante Ok E questo Un'ultima nota Questo Impostare come Global limiter Per tutte le API In questo caso In realtà Ne ho una Si può decidere Di creare delle policy Per applicarlo Soltanto a certe funzionalità Ci si può distinguere Per utenti autenticati Utenti anonimi E così via Ora qui Non scendo nei dettagli Perché andremo Troppo fuori tema L'idea però È che È importante Mettere un sistema Del genere Quindi se Vi interessa Approfondite questo punto Perché è sicuramente interessante Ok Quanto ho ancora Di tempo Ho finito Ho sforato Due minuti Ok Allora direi che Ci avviamo alla conclusione Comunque erano queste Le cose Che volevo mostrarvi L'ultima cosa Che vi faccio vedere Come promesso Se volete giocare anche voi Con questo servizio L'ho pubblicato Su questo sito Se volete darci un'occhiata Dovete avere pazienza Cliccando Vedrete La stessa applicazione Che avete visto prima La rotellina Ogni volta che cliccate Troverete un'immagine nuova Se vi piace Salvatevela Perché ogni volta Ne viene generata un'altra Quindi è soltanto Per farvi vedere Che la cosa comunque funziona E in questa applicazione Ovviamente Qui ho messo il rate limiter Naturalmente Ok Ah scusa Scusa Vai Scusate Non pensavo fosse così In effetti Vedere una mia UI Capisco che Suscita interesse Effettivamente potete dire Ho visto una UI di Marco Cosa incredibile Ma è successo prima Ok Ok Chiudo con i riferimenti Il codice Comunque lo trovate anche su GitHub È già pubblicato Se ci volete dare un'occhiata Assolutamente lì E poi Classici riferimenti Alla documentazione di Microsoft Per approfondire Quello che abbiamo raccontato Come detto però L'utilizzo di base È molto semplice Si tratta di mettere insieme i servizi E capire come Farli Come giostrarli Vi lascio i miei riferimenti Mi trovate su tutti questi canali Come aveva accennato prima Domanda? Vai dimmi Sulle scuse dei riferimenti Sì Eccoli Scusa Vai Prego Vediamo C'è ancora una foto in corso Ok Andiamo Questi sono i miei riferimenti Come dicevo prima Come ha detto prima Lorenzo Finché ChatGPT e Copilot Non mi sostituiscono Quasi tutti i venerdì A meno quando non sono fuori In altri eventi come oggi Faccio live su Twitch Su questi argomenti Ma in generale Sono programmazione .net Quindi tutti i venerdì Mi trovate online Questo è il QR code Per il modulo di feedback Per noi è importantissimo Dateci un riscontro Su come vi è sembrata la sessione Se vi è piaciuta Non vi è piaciuta Se dobbiamo migliorare qualcosa O è tutto perfetto per voi Perché per noi È assolutamente fondamentale Detto questo Io credo di avere finito In orario Non so se abbiamo tempo Per le domande Ma in ogni caso Mi trovate qui in giro Anche alla pausa Ma C'è Mirko Allora se c'è Mirko Abbiamo 40 minuti di domande Via No scherzo Se c'è Non abbiamo tempo adesso Però Mi trovate qua in giro Se avete bisogno Grazie a tutti per l'attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti